e c'erano mille navi greche che solcavano il mare Egeo per andare verso Troia a riprendersi Elena. Stava per cominciare la più grande battaglia di tutti i tempi. Al comando di queste mille navi c'erano 50 capitani, 50 re. Su di una nave in particolare, non so, magari la numero 393, c'era un capitano. Il suo nome era Ulisse, re di Itaca. Ulisse stava sulla prua e guardava il mare color del vino. Pensava che lui non aveva nessuna voglia di andarci a Troia. Lui, a differenza degli altri 49 principi greci, non aveva nessuna voglia di fare questa guerra. Ulisse pensava che, in effetti, era tutta colpa sua. Ma forse sarà meglio cominciare dall'inizio.